Potente appara ragazzi, qua Maxlogy, oh my god, oggi sono da soli zitti tutti, sono qui a presentarvi il secondo video credo di oggi perché infatti vi avevo promesso una cosa, vi avevo promesso che se il video che appunto ho caricato questa mattina aveste raggiunto i 3000 mi piace, io me ne avrei fatto un altro, ve ne avrei fatto un altro comunque però comunque ho visto che il video è andato alla stragrande, tipo in un'ora aveva già quasi 2000 mi piace quindi veramente fantastico, ora ne sono passate due, siamo a 2008 quindi ai 3000, i 3000 mi raggiungerà a brevissimo quindi ho detto, ma dobbiamo farglielo, ed eccoci qui a presentare l'Ultimate Pack Opening del tipo che io continuerò ad aprire pacchetti, forse questo qua sarà l'episodio in cui aprirò solo pacchetti da 100.000 comunque dovete sapere che io continuerò ad aprire pacchetti fino a quando non troverò un Toti e quindi detto questo, io direi iniziare, anzi no, perché infatti come prima cosa vi volevo come sempre ricordare di passarla a onefifa.com se siete interessati a comprare i crediti di FIFA e mi raccomando utilizzate il discount con Axel con 2 per avere un ulteriore sconto e adesso noi siamo pronti, siamo pronti, mi raccomando, se volete lasciate già un bel mi piace perché devo sentire il vostro supporto, andiamo ad aprire il pacchetto da 100.000 crediti chiudiamo gli occhi, io li chiudo, io li chiudo, io ci credo ne abbiamo già aperti 4, non l'ho trovato niente, ho visto che ma oh, c'è qual quadra che non mi cosa oh signore, ho aperto quello da 15.000 al posto di quello da 100, che mega fail comunque andiamo ad aprire il pacchetto da 100, ho visto che Mike ho trovato un altro Toti io devo ancora trovarmi uno, ma forse, questa sarà la prova, altre altre sono sotto lo sguardo 1, 2, 3 allora, siamo trovati qualcuno di blu alla fine oh mio dio che schifo casa e recife basta, ma state scherzando, non ci credo oh, ne abbiamo ancora una ragazzi, ne abbiamo ancora una, via, dai, dai, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo guardo, guardo, guardo ragazzi, un blu, dammelo un blu no, Rudy, no, me si voglio porca miseria e porta madonna mia 30.000 crediti perché non li troviamo quelli buoni porca vacca adesso io voglio portarvi altri intanto apro questi da 35.000 ve ne vorrò portare altri dipattenti da 100 però non posso farmi ogni 2 minuti un account noi lo dobbiamo trovare dai qua qualcosa, un blu, ti prego è il cura guerro è il cura guerrito lui vale un po' lui vale un po' sono sicuro un quanto? 300.000 è il cura guerro serio proprio lui aspettate ed eccolo ed eccolo è il cura guerrito è il cura guerro quindi ci siamo rifi... oddio sta per esplodere il controller ci siamo rifatti i crediti l'abbiamo trovato sarà questa una volta buona guardiamo ancora? dai un bel blu dai un bel blu ti prego un blu 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 dai ti prego non guardo uno due tre porca miseria garai è giunto il momento di mettere il gioco in norvegese ti prego gioco in norvegese almeno tu ti prego chiudiamo gli occhi al tre li riapro uno due tre no i guai in gozze tutti i doppioni io continuerò ad aprirli fino quando non trovo un toti guardo no non guardo non ho il coraggio chiudono gli occhi uno due tre ma per la miseria non esce e ragazzi dopo due anni eccoci qui devo studiare un marcello penso tra tanto tempo a farmi sto account comunque 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 cosa sto per fare adesso andrò ad aprire altri due pacchetti da 100.000 poi sperando di trovare qualcuno finirà tutto se non troverò nessuno anche qua cosa succederà chiuderò questo pacco opening o oggi o domani farò l'ultimo pacco opening nella quale andrò di violenza continuare ad aprire i pacchetti fino a quando non troverò un toti quindi detto questo apriamo anche questo pacchetto da 100.000 sperando che sia buono ti prego ti prego ti prego ti prego oh dio mio ti prego dai alla fine un toti ti prego ti prego ti prego ti prego ma porca non ci posso credere dai l'ultimo ti scorgiuro almeno qua un toti dai chiudo gli occhi chiudo gli occhi almeno qua almeno qua ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego company company ti prego un toti ti scorgiuro alla fine un toti non lo troviamo non lo troviamo non troviamo un toti cosa dobbiamo fare per trovarlo però abbiamo trovato irois ci si è rifatti il pacchetto però porca miseria io volevo dicevo ho venduto company irois per aprire gli ultimi pacchetti da 35.000 crediti che possiamo aprire dai 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 ragazzi se non l'avete lasciato un jump mi piace lasciatelo perché noi dobbiamo trovarlo un toti non possiamo rimanere a secco e un coracaser quante volte l'abbiamo trovato ti prego ci devi essere qui dero non lo troveremo sveinsteiger e casillas ogni anno sveinsteiger lo mettono nei toti l'unico anno in cui non lo mettono è quello in cui lo trovo io abbiamo trovato il bollar lui costa qualcosa ma do pensavo se 200.000 qui 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 c'è qui c'è van persi fatevi trovare un toti al posto di schi giocatore sono valutati 6.000 e costano 200 20.000 costa 20.000 ragazzi ultimo pacchetto o la va o la spacco dai qua qua c'è il toti qua c'è il toti non c'è la 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 Grazie per la visione!